La ripresa dell'aula faremo resistenza passiva, questo Parlamento è nelle mani di questa alleanza di governo Renzi-Verdini, il Paese a questo punto è nelle mani di questi due signori e di conseguenza come politica e come opposizione abbiamo deciso di fare resistenza passiva. Entreremo in aula, voteremo gli emendamenti, faremo dichiarazione di voto e infine voteremo l'articolo 10. Fronte comune anche con i 5 Stelle? Fronte comune con tutti coloro che fuori rappresentano circa il 70% del Paese, qui dentro questa maggioranza non rappresenta più del 30% degli elettori italiani, dentro c'è invece la cosiddetta opposizione quella che rappresenta gli italiani, quindi fronte anche con i 5 Stelle. Avete rinunciato all'Aventino? Abbiamo per ora, abbiamo rinunciato all'Aventino perché speriamo che chi deve decidere e quindi i signori Renzi e Verdini decidano almeno adesso di poter mettersi a discutere con le opposizioni senza le solite fregnacce, passatemi il termine, quando ci dicono che noi vogliamo fare solo istruzionismo. Noi vogliamo parlare di contenuti, parliamo di contenuti in modo serio. Quindi adesso comincerete a votare, a fare digrazione di voto su 370.000 ammendamenti? Sugli ammendamenti che rimangono, anche perché il discorso che noi facciamo in questo caso qui non è più come opposizione in generale, ma come Lega, noi l'abbiamo detto in più di un'occasione che noi vogliamo ritornare a parlare dei problemi seri del Paese, che sono quelli che ci interessano, sono quelli che interessano quel famoso 70%. Io ho sempre detto che la cosiddetta signora Maria non arriva a fine mese o non mangia alla sera con la riforma costituzionale, che è la priorità di Renzi e Verdini, la nostra no. Quindi prima votiamo questa riforma, prima parliamo di cose serie.